Continua a riscuotere consenso il progetto Farmacia dei Servizi, partito in Umbria lo scorso giugno, promosso da Pharma Service Centro Italia e Novartis, con il patrocinio della Regione Umbria e di Federfarma Umbria. La campagna Il Soffio che previene riguardante la broncopneumopatia cronica ostruttiva e l'asma allergica è in programma fino al 29 settembre nelle farmacie aderenti dei comuni di Perugia e Termi. L'utente interessato potrà sottoporsi a due screening gratuiti grazie agli strumenti messi a disposizione da Novartis, l'AirSmart Spirometer, uno spirometro digitale collegato ad una app che attraverso specifici parametri può valutare lo stato di salute polmonare e l'IgE Cartrage, un test rapido ed efficace per valutare l'asma allergica. La campagna Chiedi al tuo dermatologo inerente la psoriasi sarà invece protagonista nel mese di ottobre. Durante questi appuntamenti le farmacie aderenti esporranno le relative locandine riguardanti il progetto, così da essere facilmente individuabili e forniranno agli utenti il materiale informativo sulle patologie.